buongiorno a tutti siamo qui a Garba in provincia di Verona dove vediamo l'ennesimo cantiere scavo che sta praticamente deturpando qua ancora la zona fatto una ditta di origine altoatesina sta occupando come vedete la sede stradale proprio ha rasato ha fatto uno scavo proprio dove doveva passare le macchine e questo fatto è grave vedete guardate che situazione c'è la strada che è stata proprio sventrata e deviata e questo fatto risulta a quanto grave anche perché qua dietro mi vedete ci sono delle case delle abitazioni che venivano prima raggiunte dalla da questo stradello che adesso è stato deviato effettivamente qua c'è una deviazione è portato e passa attraverso i campi e allora anche questa situazione a noi risulta a quanto strana anche perché la strada chi passava prima ha un diritto di passaggio e facendo questa situazione spostando le queste questo cantiere queste scavi proprio sulla strada la situazione risulta a quanto grave dal punto di vista degli abitanti che abitano qua in queste case che sono qui dietro e allora ci si chiede per l'ennesima volta se per fare tutte queste speculazioni queste costruzioni sia lecito spostare addirittura alle strade limitando il passaggio ai vicini di questo cantiere questa enorme costruzione che andrà a puntare proprio anche la vista diciamo verso il panorama della zona della rocca e chiediamo ulteriormente spiegazioni agli amministratori di questo stato di cose in cui le strade vengono spostate sventrate e per chi deve avvicinarsi all'abitazione ha delle limitazioni alquanto bravi